Una doppia inaugurazione stamane nel piccolo comune Aquilano di Fossa ad aprire ai battenti la nuova scuola elementare e materna, realizzata grazie all'importante intervento economico della Caritas di Calabria e Toscana e anche il ponte sul fiume del Mulino. La nuova scuola che è dotata davvero di tutti i moderni comfort, di un bellissimo parco giochi, ha un'estensione di 1200 metri quadrati ed è circondata da un bellissimo giardino, soddisfatta la dirigente scolastica Lucia Di Giulio. Il ponte è finalmente stato fatto ed era la costruzione di questo ponte che ha ritardato l'apertura di questa scuola. È totalmente finanziata dalla Caritas e quindi è una delle tante realizzazioni che stiamo facendo per il bene di questa popolazione. Oggi i plessi della scuola primaria e dell'infanzia di Fossa che hanno funzionato all'indomani del terremoto e fino alle vacanze di Natale di quest'anno presso la struttura Nino Sospiri in Villa Sant'Angelo sono trasferite qui in questa scuola nuova, bellissima, accogliente, donata dalla Caritas. Grazie all'inaugurazione del ponte che sarà intitolato alla compianta Giulia Carnevale potremo accedere alla scuola e potremo permettere la ripresa dell'attività didattica a pieno regime. Un segno tangibile dell'importanza di una normalizzazione che piano piano inizia a prendere forma e che il sindaco di questa comunità Luigi Calvisi ha voluto con tutte le forze. Voglio sottolineare che questa scuola, io penso che un paese come Fossa, il sindaco di Fossa nemmeno non è più felice dei sogni, avrebbe mai potuto sognare di avere. Quindi ringrazio la Caritas che ci ha fatto questa struttura che è bellissima, tecnologicamente avanzata e quindi veramente si realizza, è di un'accoglienza inimmaginabile per un paesino piccolo come il mio. Il nuovo ponte, realizzato grazie al contributo dell'Associazione dei Dipendenti della Banca Popolare di Milano, è stato intitolato a Giulia Carnevale, studentessa di ingegneria vittima del terremoto e figlia del titolare dell'impresa che per fortuita combinazione si è giudicata all'appalto per la realizzazione del manufatto. Una strana coincidenza, lega sempre di più il nome di Giulia alla ricostruzione aquilana. Infatti è già la terza opera che si fa pubblica all'Aquila, nel territorio aquilano, dedicata a Giulia. Ormai è diventata il simbolo della ricostruzione e della speranza della rinascita dell'Aquila. Da una morte, da una morte assurda del 6 aprile, c'è questa speranza della ricostruzione legata al nome di Giulia. Grazie.